tutto pronto appena cominciato il match fai satellite f c e gli aston birra gara tra amici quindi si presume spagnoli de luca che parate che riflesso con delle azioni delitto se ne va de luca non trattiene vantaggio satellite gianmarco delitto un attenzione vassallo donzelli vince il rimpallo ancora da donzelli donzelli fra donzelli allarga bene per delitto delitto de luca russo di tutto solo guarino doppio passo si leva vassallo poi de luca palla che resta lì la porta è vuota ancora la guarino vuole giocare poi spagnoli traversa palla che non entra poi donzelli spagnoli ancora donzelli destro finta su sinistra ancora donzelli donzelli palla per guarino con a guarino poi spagnoli però da andare spagnoli de luca ascoli palla in mezzo per di laurenzio da bomber consumato daria di rigore davide di laurenzio il gol del pareggio degli aston birra 11 palla in mezzo di laurenzio l'aggancia ancora di laurenzio la porta è vuota ascoli palla che non entra incredibilmente guarino batteri pazzi ancora de luca ma c'è stato un malinteso ho visto che è scritto accorato sei mio ospite pensavo c'è il gol di donzelli un bacetto al palo e pala che entra 2 a 1 finisce qui il primo tempo parte la ripresa subito ascoli con il destro 2 a 1 per i satellite contro gli aston birra abbiamo questa impresa chiamuzioni ci regalerà stavano ancora a chiesa di alunze nuovo nel torneo faccio a guarino destro sinistro guarino palla per donzelli ne manda al bar un paio ancora donzelli che assist per delitto sinistro destro sinistro che gol ha fatto delitto 3 a 1 dei satellite di sabato incrocia epifania salva tutto russo se ne va russo incrocia palla messa in mezzo e c'è il gol di spagnoli che impatta col destro 4 a 1 spagnoli il gol di satellite calma dai dai non ho fatto apposta pala in mezzo merriola merriola si coordina che parata difficilissima di andrea epifania merriola con deviazione accorciano le distanze di aston birra 4 a 2 non mi scemmai l'ho detto io per l'olio questa l'ha battuta questo ci prova de luca epifania salva i suoi scuola nani guarino se ne va risalta tutti 1 contro 0 guarino il tocco sotto de luca contro 0 guarino il tocco sotto de luca e finisce qui con la vittoria 4 a 2 pensate